amici ma soprattutto nemici piangoneri buongiorno buongiorno ragazzi è saltata è saltata ufficialmente la partita di domani contro l'Atletico Madrid in quel di Tel Aviv per motivi di sicurezza quindi domani la partita non ci sarà ma farla in un posto più tranquillo magari organizzare subito subito questa partita magari non lo so al Vanda o alla Torino per anche perché ci servono minuti sulle gambe non si può non si può subito trovare la soluzione la prossima volta cercate anche un motivo di contenere sempre questo fatto di andare a giocare in posti dove ci sono guadagni 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 ma comunque purtroppo è saltata ripeto si può si potrebbe si potrebbe organizzare un qualcosa nell'immediato spero che prendano profetimenti in queste in queste ore perché veramente ripeto a noi servono giocare quindi serve giocare quindi mettere minuti nelle gambe e trovare magari un po di amalgama che in questo caso è importantissimo quindi Juve corta sveglia domani vogliamo la partita al massimo magari lunedì non lo so ma vogliamo la partita ma se viene ingerzato fino alla fine forza Juve